Dal via libera l'arbitro è iniziata Germania-Italia. Apposito tocco ad allargare sul settore di destra, arriva il cross verso il secondo palo dove si accompagna anche lo scatto da parte di Frauendorf che viene fermato da Stivanello che subisce anche l'intervento irregolare da parte del centrocampista offensivo. Ancora verso Top sul quale deve stringere subito la nostra... è lui pronto ad andare dalla bandierina con il pallone che spiove verso il secondo... Se il movimento ha la sponda per Top e poi da fuori ci prova Baur con il sinistro, pallone lontano dalla porta difesa da Andrea, ancora può calciare, va col sinistro e pallone fuori bersaglio ma non di molto. Occasione Italia al minuto 14 con il tè, può aprire per D'Andrea, di nuovo l'uno contro uno, D'Andrea trova una ribattuta e poi c'è Pisilli che si trova in traiettoria, controlla e calcia al diciottesimo, l'Italia è in vantaggio. Cagliode, questa volta si appoggia su D'Andrea che si gira e con il sinistro pesca il jolly, raddoppio Italia, 1-2 in 4 minuti lo hanno fatto girare. E' lui cross di Rote, palla prolungata e destro a lato non di molto da parte di Top, c'era probabilmente un fallo prima, quell'Italia è però un... Andrea questa volta direttamente verso il primo palo, la rispinta raccolta di Faticanti, destro di poco a lato, ancora pericolosa l'Italia. Traiettoria verso il cuore dell'area, prova ad arrivare dentro Ulrich, occhio a Baur che controlla e controlla la differenza, altro strapoterato su Torumcu, cerca il cross verso Espoit, una deviazione arbitro, palla dentro, Stefanello prova ad arrivarci con lui, Mane. Non c'è più tempo, finisce qui la prima parte di gara, lo sguardo al cronometro, il signor Karo Glan che fa ripartire al match, al Vesostadion Plaz, la chiama Esposito, Pisilli fino al limite, Pisilli, palo pieno, occasione per il Tris Azzurro, con un'altra iniziativa d'applausi di Nicolò Pisilli. E' l'uomo, subito top, prova ad aggrapparsi alla maglietta di Stefanello, che devi stare attento perché è già monito, qui fischia un fallo il signor Karo Glan. Va Baur, e la Germania accorcia. E' stato Damar, non Baur, pallone che ha sorvolato la barriera, è arrivato in ritardo Mastrantonio e dunque, e poi attenzione al pallone calciato via da D'Andrea, si accende un parapiglia. Gli animi che si scaldano. Il Mastrantonio che ce l'ha ancora con i suoi costanti, il nostro difensore termina in fuori dal campo, top, la sponda, Kabadai, ha pareggiato la Germania. Il calcio sa essere tremendamente crudele, ma non puoi permettere di velocità da parte di Baur, occhio a top, top! Sinistro deviato in calcio d'angolo, altra palla a gol per i tedeschi. Palla per Pisilli, che ancora riesce a sfondare, di nuovo un rimpallo, e di nuovo Pisilli! L'Italia ritorna avanti, l'aveva sfiorato il gol del 3, a 0. Nel primo tempo, qui occhio che fa partire Cajode, che va dentro, non la tiene Feller. Se la forse lo... Colpo di testa, sta arrivando top, Dill, passa Dill, Mastrantonio. Un punto di riferimento, oltre ad un attaccante della Germania, che ora va dentro all'area di rigore per provare... Si è rimesso in piedi, Manegra, è stato colpito... Kabadai versus... Palla che rimbalza all'interno dell'area di rigore. La ricacciano dentro, e Mastrantonio, questa volta non si fa pregare, interviene prima di tutti sul pallone. Palla viene allontanata, limite dell'area, Dill! E Mastrantonio la toglie dall'angolino. Calcio d'angolo, il primo vero intervento è di quelli, sala all'indietro, a cercare Pisilli, che è sempre in agguato. Poi, faticanti, più un pallone da buttare...